Bentornati ragazzi, bentornati in una nuova live della NapoliCraft 2 Siamo con la texture pack ufficiale della NapoliCraft In realtà mi ha mandato una versione aggiornata ragazzi Però non ho fatto in tempo a mettere perché sono arrivato veramente all'ultimo oggi Ma che cazzo? Ma nera così Ma io non ho... è aggiornata Ma non ho scaricato nulla come è possibile Non capisco raga cosa sia Questa è quella normale, giusto? Pammede Ok, questa è quella normale Dove lui è effettivamente un cavallo Raga ma c'è il cavallo e il piaggio compenetrati Ma cosa è successo? Ma si è glitchato tutto? Oh Jesus Oh, così deve essere Non so raga cosa fosse successo Eh, ci siamo Vi giuro raga, non l'ho capito Oggi volevo andare a prendere l'elitra Questo almeno era il piano iniziale Non ho fatto il portale per il nether Quindi dobbiamo andare a piedi Eh sì, mi sa che prenderemo il piaggio e tante salute Via! Via, 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 via! Oppala! Mi eccita andare in piaggio, mi eccita Potrò fare una live internet in cui vado in giro con il piaggio tutto il tempo Cos'è un posto di blocco quello? Minchia, ma proprio tutta l'aperto Ah, ci sono gli spawner di ragne Giustamente Eh, che è, che è? Calma Ah, le ruspe, giusto, aspettate Minchia, state un po' tranciate ste ruspe qua Vabbè Cosa abbiamo? Un lapislazzoli Semmi barbabietola In realtà i binari Ma lasciamo qua Ma che me ne faccio di sta roba, onestamente? Ma guarda Guarda, impenna anche da solo, ragazzi Guardate qua Vedi? Tu gli dai l'input E lo rimparano Bene, piaggio Però è tempo da andare adesso Basta impennare E via Sentite che bel suono Mem, mem, mem Certo che un piaggio Che ti va in mezzo alla giungla Non è che lo trovi proprio tutti i giorni, eh Ottimo Oddio Dobbiamo trovare il modo di tornare su, ragazzi Oh, che cazzo Oh, ma che cazzo è che mi si incastra qua? E ci siamo, signori Eccoci qua Credete sempre nel vostro piaggio Non dubitate mai di lui Eccolo qua Signor Piaggio, stia pure qui Grazie tante Quando non mi ricordo più la strada Mi ricordo che l'avevamo veramente Trovato subito Ed era di qua Esatto Oppela Bellissimo spawn Bello, bello È tempo dell'1v1 Chi si offre, ragazzi? Chi si offre per fare l'1v1? Lui Vai 1v1, let's go Let's go, let's go E Tocca a te Oh Ah Senti come bus Dove sta, ragazzo? E vi è ecce Affanculo Venite Forza Napoli Ah, è come vi vogliono shippare il portafoglio Guardali Non me lo shipperete il portafoglio Bastardi Le No, sì, dai, va bene così Cosa mai potrebbe andare storto? Ma che cazzo? Oh Ok Aia Vai, va Intanto mangiamo un po' di questi Che fa sempre bene Tanto non ti spostano di un cazzo Questi Ma Ma ti fanno andare nella direzione che vuoi Figo Ma sapete che non lo sapevo? Io penso fosse a caso È tempo di aumentare La render distance 64 Chunk Oh Gesù E si vaga per il deserto così Però stavolta Faremo tutto più in fretta, ragazzi Ponti chilometrici No Proveremo a fare le cecchinate con l'enderpearl E come va, va Ci state? Insomma, bisogna rendere un po' spicy stasera Non è che bisogna stare sempre lì Col punticino No, no Noi proprio prendiamo queste E le tiriamo in testa tutti Tipo vogliamo andare qua? Ci mettiamo qua Facciamo E hop Visto? Cosa mai potrebbe andare storto? Eeeh C'è sempre quell'attimo di suspense Quando sta Atterrando l'enderpearl Ma qua dobbiamo andare Sopra Chat Secondo te Secondo voi Ce la facciamo A fare le cecchinate giuste Ad andare lì? O è troppo rischioso? Vedo dei sì Ma anche tanti no Vogliamo un sondaggio? Micchia 52% 50-50 Attenzione Mamma mia raga Brividi La chat sta votando di sì Lo dico davanti a tutti Io Seguo il volere Della chat La chat ha votato al 53% di sì Io Vado ragazzi Ah Lì però ci stanno proprio gli endermen che mi guardano Devo cercare il modo Mi sarebbero più endermen Amici Bellissima la textura e pari Hanno rubato il blocco Mi hanno rubato Il blocco Ma che cazzo Ah volevano il blocco loro Basta E poi gli dico Non fa gli stereotipi No Troppo lungo Invece era preciso Cazzo Le volte dici Poi con la cadenza bolognese Vengono le mutande Come dicono i bolognesi poi? Poi Non poi Dite poi Sto cercando di capire Com'è la cadenza bolognese Sul poi Nel lombardì diciamo Poi aperto Poi Tre cani È vero Si dice Quella ho aperta Vedrò se ho voglia Di impararmelo così Oppure no Eh edizione Insomma Bisogna Non mi ha tippato Ragazzi Cos'è sto link Andre Il nostro editor Ci manda questo Io no Basta Ho fatto abbastanza Minecraft Quest'anno Si stava in groppa L'albero Questo Ma che sosti Oh È solo per bambini Questa Nella serie Lì L'hanno inquadrato Guardalo Guardalo Adesso basta Adesso mando Una lettera di reclamo Alla Rai Guarda io Volevo dirtelo Carissima Rai Però Io non farei mai Vedere questa Questa roba A mio figlio Anzi adesso vi denunzio Infanzia rovinata Unlucky Questa roba Grazie a tutti Sì Passa